Il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, domenica in occasione dell'apertura ufficiale del Vinitaly 2024, ha inaugurato il padiglione Lazio insieme all'assessore all'agricoltura e sovranità alimentare Giancarlo Righini e al commissario straordinario di Arsia, Massimiliano Raffa. È la prima volta che partecipo al Vinitaly, straordinaria manifestazione che promuove il Made in Italy nel mondo e che offre una grande vetrina per i nostri produttori, rappresentando un'importante opportunità per l'intero settore vitivinicolo. Sono orgoglioso di poter inaugurare il padiglione del Lazio con le 53 realtà vitivinicole del nostro meraviglioso territorio che rappresentano idealmente oltre 400 produttori della regione, ha dichiarato il presidente Francesco Rocca. Il modello Lazio è un'eccellenza del nostro paese. La filiera regionale, con le sue straordinarie qualità vitivinicole, costituisce una punta di diamante del settore. La giunta regionale è determinata a continuare su questa strada, supportando le nostre cantine e creando le condizioni affinché siano sempre più competitive sul mercato nazionale e internazionale.